Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi stiamo per operare questa mia paziente che ha delle cisti al cuoio capelluto che vuol dire degli accumuli di grasso sottopelle che in realtà sono sebo, quindi sono delle sacchette ripiene di sebo quindi con una piccola capsulina intorno che in realtà creano una tumefazione sotto al cuoio capelluto quindi si sentono in rilevo, quindi vanno incise, asportate completamente, tolte e messe ai punti di sutura quindi è un intervento abbastanza veloce, si fa in anestesia locale con un pizzichino di sedazione se lo vogliamo fare altrimenti si può fare a studio, la paziente ha scelto di venire in clinica in sala operatoria e adesso vi mostrerò come fare l'intervento. Eccola qua, ok, qua ce n'è una, assenti, e vicino ci dovrebbe stare un altro pizzicino Sì, ok, sono attaccate, ok, posto, un disegno Allora prende la musica, mi stai seguendo? Che cos'è uno stalking questo? Un piccolo pizzichino poi non senti più niente e poi fa una decina di giorni togliamo i puntini quindi ti metto qualcosina di semi riassorbibile così poi ti puoi lavare anche Allora, teniamole tutte, che le mandiamo, poi gliele facciamo anche vedere ed è un puntino che chiudo questo, ho tolto intanto quella piccola Ho finito due cestine su tre, sono riuscito a enuclearle, adesso mettiamo dei punti di accostamento della cute un po' più spessi in modo che lei possa alla fine lavare anche i capelli, possano resistere un pochettino e adesso andiamo a tagliare l'ultima cestina Adesso faccio vedere i figli alla mamma, è un momento sempre molto commovente questo per la storia dell'umanità Questo è l'ultimo, il fagiolo, questo è splatterà, ma la palpazione incanna sempre, contenta? Adesso portiamo al libro Ti ci vede come pediatra, ti ci vede come pediatra, ti ci vede proprio Che tipo, un biscottino lo prendi? Un caffettino, una cosa? Adesso che hai finito? Beh, un biscottino te lo porto? Un pezzettino di pizza? Un pezzettino di pizza rossa? Una pizzetta rossa? Dai, divertiamo la pizzetta rossa Partiamogli la pizzettina, un po' di pizza dopo l'intervento, perfetto Sono una persona gentile, cioè una persona gentile non ha a che fare con la professionalità, giusto? Non garantisco come la porto, ma la porto, cioè, e poi sbaglio o è il gesto quello che conta? Cioè, com'era la cosa? Il pensiero? In questo caso è il gesto quello che conta Ciao ragazzi, è appena finito il video, quindi sto facendo l'altro Cioè vuol dire che vi sto salutando perché è appena finito l'intervento chirurgico Abbiamo rimosto tre cistine del cuore capelluto dopo aver fatto l'anestesia locale Quindi che è successo? Abbiamo scisso fondamentalmente questa neoformazione sotto il cuore capelluto E poi messo dei puntini superficiali In 15 giorni toglierà i punti e sarà guarita Quindi se vi è piaciuto questo video fatemi sapere se vi piacciono altri video di questo tipo E ciao al prossimo video Ricordate di attivare la campanellina, di mettere un mi piace E di scrivervi nei commenti che cosa ne pensate E salutiamo la dottoressa Tomaselli che sta andando via Però non ci vuole salutare lei? Lei non ci vuole salutare Non ci vuole salutare?